Il mico dice, quindi qual è questo elemento chiamato massac? Lei ha spiegato la restrizione. E cos'è il massac? Cos'è questo schermo? La dice, lo tzintzum, la restrizione, è che io non voglio utilizzare niente per il mio proprio beneficio, ossia per il beneficio della mia bestia, per il beneficio di questo mondo. Cose necessarie, nelle quali io non sono capo e il creatore mi ha fatto come una bestia, queste cose devo mantenere, devo mantenere la bestia, perché in altra maniera io non posso esistere. Questo significa che non è né bene né male. Cosa mi hai domandato? Sul massac, dice l'amico. Il massac significa che sono incluso nell'altro e nella misura che sono integrato con tutti gli amici, con questi nove amici, verso i quali io sono come Keter, il creatore è come Malchut. Così è alla fine. Perché? Perché Orkoser è da basso verso l'alto. Dalla creatura al creatore, nella misura che io posso integrarmi con loro, allora io qui dentro ognuno di loro, per aiutare ognuno di loro nella loro natura, vedo le loro mancanze, nella misura che posso fare il bene, allora io qui prendo tutti insieme con la mia forza e porto tutta questa integrazione al creatore, come questa mancanza comune. questo è quello che io posso dare a lui, dargli questa mancanza, per la quale sto chiedendo riempimento, perché questa mancanza già è per l'adazione, perché questa mancanza è per dare. Come l'esempio di cui parlava io, quando io venivo qui, avevo 40 anni e arrivavo a casa e dicevo, mamma ho fame, e con questo io davo a lei piacere. Questo succedeva una volta all'anno, quando io andavo lì. E quindi, così è come questo è, è la rivelazione della mancanza per l'adazione, perché il creatore non ha bisogno di niente, a parte del vaso che sia pronto per ricevere l'abbondanza. Il suo piacere è nel dare, pertanto noi dobbiamo vedere di tutto il desiderio di dare per noi. Noi dobbiamo vedere questa azione, queste azioni che sono tutte nel dare, nel voler dare. Lui vuole dare tutta questa bontà, questa luce superiore, e quando noi ci avviciniamo, ci connettiamo con Lui, bene, vedremo. Dopo, come nelle scritture dei cabalisti, questo è come il vitello che si connette alla mucca. Che tipo di connessione che c'è lì da parte della mucca è amore, il creatore che può esprimere il suo amore. E da parte del vitello, anche nel nostro caso, quando noi lo facciamo per noi, lo facciamo per la nostra bestia, per il corpo, non per il corpo del vitello, ma per dare la mancanza, quindi la grandezza della nostra mancanza, quindi la possibilità che Lui si possa rivelare, di rivelare il suo amore, perché noi non scopriamo Lui, noi scopriamo la Sua attitudine verso di noi, Lui stesso, questo si chiama la Sua essenza, però la Sua luce verso di noi, questo è amore, questo latte, questo già viene verso di noi e si rivela, e quindi in questa maniera noi saremmo chiamati giusti, per giustificare la creazione.